Aspetto dirlo bene in italiano, benedito problema se il problema è Hansi, perché è un giocatore di un livello altissimo e questo è un problema che a me ne piace molto più. Credo che Mare si trattasse molto bene all'inizio del campionato, dopo ha avuto l'infortunio e dopo l'infortunio, l'ho spiegato prima, non ha arrivato al livello che noi sappiamo che ha. Questi giorni che lo abbiamo visto renarsi, credo che Cristian più che Raul che è arrivato un po' in ritardo. L'abbiamo visto giocare ieri la partita, è stesso ruolo, lui ha avuto 3-4 situazioni di fare gol perché ha la qualità, è una questione di trovare un po' la fiducia, non è una questione di ruolo. È il ruolo, uno che gioca dietro la punta e ha libertà di muoversi dove vuole muoversi, può fare il gol e come ho detto prima, credo che lui lo farà. Quest'anno aspetto almeno 12 repiti da Mare.